Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo video e oggi parleremo di amici. Sì, in realtà sono andata a cercare su YouTube appunto se ci fossero video ricordanti amici, le opinioni, le recensioni su quello che sta accadendo però nella scuola di amici. E quindi oggi andremo a parlare un po' dei personaggi che ci sono all'interno della scuola, di chi potrebbe essere il papabile vincitore, i papabili finalisti e tutto ciò che circonda il serale. Quindi parleremo di serale, amici, non amici, Maria De Filippi, no in realtà non è vero. Secondo me è bellissimo partire dai personaggi. Qua di fianco spunteranno via via le varie immagini dei personaggi, dei personaggi appunto che partecipano al serale, quindi andiamo. Allora prima di tutto parliamo di Holden. Holden è un cantante molto forte secondo me perché è un cantante che già in passato ha scritto delle canzoni quindi si è fatto conoscere un po' dal pubblico in generale. È un cantante che comunque ha una timbrica molto particolare possiamo dire però guardando sui social ho visto che non è molto amato perché molto spesso magari si comporta un po' da presuntuoso quindi non è tanto amato sui social infatti ho visto però dirla tutta io gli darei un bel otto e mezzo. Marisol bravissimo c'è nel senso una ragazza di 18 anni piccolina però brava nel senso sa fare il suo è un bel nove. Mida. Mida in realtà è un cantante che anche lui aveva fatto delle canzoni precedenti che se non sbaglio lei lui pure è andato a Sanremo giovani due anni fa o l'anno scorso. Ho fatto delle canzoni che in passato poi sono andate anche abbastanza virali e ora non mi ricordo in particolare dei titoli però gli possiamo dare anche un otto dai otto. Non è particolarmente intonato io mi ricordo che una volta ha fatto una canzone in cui non usava la two tune. Non usava la two tune e quindi praticamente era ma tipo stonatissimo però vabbè le canzoni sono carine è un bel otto. Martina. 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 Martina è bravissima. Martina è per quanto riguarda la tecnica in questa classe di amici 2024 la migliora. Migliora in assoluto. Perché ragazzi? Perché vuol dire che ha studiato sta ragazza quindi io gli darei un bel nove e mezzo. Ragazzi voglio parlare di Aile. Aile ancora è molto immaturo. È una persona molto immatura. Immaturo. È una persona molto immatura e quindi ha delle problematiche grandissime. Secondo me sarà uno dei primi che uscirà dal serale praticamente. È quindi un sette per l'impegno. Sei mezzo per l'impegno. Sofia. Sofia. Sofia non mi piace particolarmente. Non è una delle mie preferite quindi un bellotto dai si brava però niente di caso. Lucia mi piace. Lucia è libera. Nel senso si vede la sua libertà ma anche come si esprime. Mi piace molto come balla. Però ragazzi il migliore di questa edizione non possiamo che dire che sia Dustin. Dustin. Raga Dustin. Dustin è da dieci. Dieci. Cioè secondo me deve vincere lui amici. Perché l'anno scorso non ha vinto Isabel. Isabel? Isabel. Isabel. Quindi quest'anno Dustin avrà la rivincita dell'Australia. L'Australia vincerà e vi batterà tutti ragazzi. Gravissimo dieci. Veramente tutto. Allora ragazzi ora io direi di parlare più che dei personaggi. Io parlerei più del serale. Un pronostico su chi saranno i miei finalisti o comunque i finalisti dei social, insomma dei media. Sicuramente uno tra questi sarà Holden. Anche se a noi non ci piace particolarmente però sarà uno di quelli. Holden, Martina, Dustin. Sicuramente i papabili vincitori o finalisti di Amici 2024. 2024. Il tempo è finito e quindi ci vediamo nella parte 2 in cui parleremo di altri personaggi, di altri concorrenti che sicuramente vi piaceranno. Allora ragazzi ciao, buonanotte. Sì, buonanotte. Ho mangiato da poco quindi buon pranzo. Ciao, ciao, ciao.